Le frodi creditizie attraverso il furto d'identità continuano ad essere piuttosto diffuse. I dati dell'osservatorio CRIF relativi al primo semestre 2016 confermano in Toscana un numero di frodi di poco inferiore agli 8.000 casi rispetto al corrispondente semestre 2015. Per fortuna ad Arezzo, così come Grosseto, Livorno, Prato e Siena, si è fatta registrare un'inversione di tendenza con un calo nel numero di frodi subite rispetto all'anno scorso, seppur su un numero contenuto di casi. Ad Arezzo si sono registrati infatti 26 casi di frodi con una diminuzione del 27,8%. Al contrario di quanto si possa immaginare, la maggior parte delle vittime, il 62,5% del totale regionale, è rappresentato da uomini. Per quanto riguarda la distribuzione delle frodi per classi di età, si conferma la tendenza già evidenziata nella precedente rilevazione con la fascia compresa tra 50 e 59 anni che fa registrare il maggior incremento. Sulla base dei dati raccolti da CRIF, nel 26,5% dei casi l'importo frodato è compreso tra 1.500 e 3.000 euro. Le categorie più colpite sono quelle dei viaggi e dell'intrattenimento, degli immobili ristrutturazione e dei trattamenti estetici o medici. In termini assoluti la maggior parte dei casi fa riferimento all'acquisto di elettrodomestici con una quota pari al 37,7% del totale, seguita dai finanziamenti ottenuti in modo fraudolento per acquistare un'auto o una moto. Anche per il 2016 viene confermato l'utilizzo della carta d'identità come documento identificativo principale per commettere la frode. In particolare emerge che circa l'1% dei documenti presentati in fase di identificazione anagrafica è una carta d'identità contraffatta oppure valida ma non riconducibile al soggetto o ancora nello 0,7% dei casi si tratta di documenti per i quali risulta una denuncia per furto o smarrimento.